Erano già state annunciate ed adesso sono diventate realtà. Stiamo parlando delle novità sulla tariffazione della Tari che vedrà una riduzione del 2,37%, un abbassamento che a breve i cittadini potranno vedere nelle loro bollette. Ma le novità riguardano anche il riassorbimento della gestione della tassa sui rifiuti da parte del Comune di Arezzo che porta anch'esso un cospicuo risparmio che andrà ovviamente a ricadere positivamente in bolletta. La Tari è sempre aumentata dell'ordine del 5% l'anno. Questo è il primo anno che non solo non aumenta ma diminuisce, poco ma diminuisce. Il lavoro fatto dagli assessori Merelli e soprattutto Marco Sacchetti che hanno lavorato sul sistema e sulla politica di raccolta se non di smaltimento del rifiuto, il fatto che il Comune abbia deciso di reinternalizzare il servizio di bollettazione agli utenti ha comportato minori spese che noi abbiamo ributtato in tariffa in modo tale che il cittadino su quel capitolo lì oggi spende un pochino meno. Lavorandoci ancora potremo arrivare il prossimo anno a ridurlo ulteriormente. Quando lo vedrà in bolletta il cittadino? A novembre lui vedrà il consuntivo e quindi la diminuzione vera. L'appello è quello a pagare ma non solo perché è dovuto, ma perché nel costo della tariffa noi siamo costretti a mettere 1.100.000 euro di riserva per il potenziale contenzioso che nasce dall'insolvenza. Quindi l'insolvenza di oggi significa un aumento dei costi di oggi e un aumento anche per il cittadino che dovrà pagare domani gravato di tasse. Quindi l'appello è a retini, pagate. Alcune novità riguarderanno poi anche la raccolta cosiddetta porta a porta. Porta a porta è essenziale per certe parti della città, mi riferisco essenzialmente prevalentemente al centro storico, anche se va programmato in maniera diversa. Probabilmente non farne oggetto di un'estensione ad altra parte della città perché questo farebbe aumentare enormemente il costo. Non c'è dubbio che la differenziata comunque la si voglia guardare sui grandi numeri comporta un aumento del costo. Quindi ragioneremo però su un sistema diverso di raccolta che non prevede forse il porta a porta ma qualcosa di diverso sul quale non mi sbilancio ancora perché ci stiamo lavorando.